... Questa mattina sciopero da parte dei Vigili del Fuoco indetto dalla USB davanti alla sede del Comando Provinciale a Catania alla base della protesta diritti, tutela e assunzioni. Sentiamo. Diritti, tutela e assunzioni, questi motivi che hanno spinto i Vigili del Fuoco a scioperare davanti la sede del Comando Provinciale di Catania in via Cesare Beccaria. Lo sciopero è stato indetto dall'Unione Sindacati di Base che per bocca del suo coordinatore regionale Carmelo Barbagallo ha spiegato i motivi della protesta che ha visto una forte adesione e partecipazione. Oggi siamo tornati qui nuovamente a scioperare per rivendicare le annose problematiche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania un comando metropolitano che soffre delle carenze non indifferenti. Oltre a questo noi chiediamo che vengano reagite le aspettanze relative al 2018-2019 del loro investimento, nel 2019 delle convenzioni boschive e regionali. I lavoratori sono stanchi, vogliamo avere tutela, vogliamo i parametri ineri. Ad esempio oggi sono finite nuovamente le mascherine. Oltre a questo siamo stati costretti a chiudere i distaccamenti per carenza di personale. chiediamo che vengano riaperte le assunzioni, quelle della stabilizzazione dei precari e quelle del concorso pubblico 250 che rinviglierebbero tutte le sedi attualmente carenze. Ricordiamo che i Vigili del Fuoco sono quotidianamente in emergenza. L'emergenza Covid ha visto l'antipartita di 5 nostri colleghi in tutto il territorio italiano. Grazie. 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 Grazie.